buonasera buonasera a tutti che ci seguite su liberi tv oggi 15 gennaio 2016 siamo in collegamento con emilio alberici lo ringraziamo di essere qui su libri tv con noi e di cosa parliamo liberi tv si si interessa diciamo anche di cose transnazionali e quindi stiamo fuori dall'italia emilio alberici in collegamento con noi da colonia e vicino a colonia germania dal 1994 quindi insomma in questo posto germania da prima e parliamo dei fatti fatti di colonia commentiamo con lui essendo appunto l'italiano che lavora lì lavora l'aeroporto presso l'aeroporto di colonia e commentiamo con lui un pochino l'atmosfera che si vive in questo periodo in questi giorni dopo le aggressioni che ci sono stati ci sono state magari anche un po tardivamente denunciate ma insomma hanno fatto molto clamore gli echi se ci sono se c'è un po' un'atmosfera di psicosi che si è sviluppata ecco e soprattutto un po' anche interessante questo sapere da un testimone come si vive come si vive o come vivono gli italiani lì lavorando come sono diciamo accolti dalla popolazione grazie mille di essere qui con noi a te la parola buonasera prego allora questi fatti di colonia hanno intimidato un po' l'opinione pubblica e ci sono stati circa più di 500 denunce per queste diciamo violenze e ci sono stati anche borseggiamenti e la polizia non era in grado in quel momento di aiutare le persone diciamo colpite hanno fatto molto ma erano di un numero molto basso non potevano aiutare diciamo nel momento e già il capo della polizia si è dimesso o è stato costretto a dimettersi e adesso sembra che col tempo si dimetta anche il ministro dell'interno di questo di questo paese diciamo di questa regione ricordiamo che questo è un paese federale quindi ovviamente si ha una pressione molto forte da parte dell'opposizione politica diciamo e cioè praticamente la polizia è costretta a fare delle cose che ha le mani un po' legate diciamo e questo viene dalla politica diciamo senti ma mi pare che sia evidente perlomeno che c'è stata una certa inefficienza della polizia insomma in questa circostanza ma questa inefficienza è una cosa che ha stupito un po' la popolazione oppure insomma rientra diciamo in una non efficienza normale super efficienza perché ormai della Germania un po' in tutta Europa siamo abituati a parlare sempre appunto in termini di massima efficienza e di esempio noi un po' da lontano siamo rimasti un po' stupiti di questa inefficienza della polizia di Colonia ecco a te com'è sembrata? Beh ma lì si parla di una cosa inaspettata perché erano più di 1500 persone che hanno fatto atti diciamo di molestia e di ruberia diciamo una cosa inaspettata diciamo quindi sono rimasti sorpresi in tutti i campi diciamo in quel senso lì Senti e ci sono state anche in altri posti ho saputo le denunce un pochino Sì ad Hamburgo e ad altre città grandi Raccontaci Ad Hamburgo ci sono state più di 100 denunce e poi è successo anche a Bielefeld una città qui al nord di questo paese di questa città e però il numero uno rimane Colonia con più di 500 denunce Ok Ma sono state vittime praticamente tutti quanti i cittadini tedeschi o anche diciamo donne in generale? Beh donne in generale diciamo Senti per quanto riguarda un po' anche le conseguenze di questi diciamo di questi fatti ecco adesso lì che tipo di atmosfera si vive rispetto appunto al problema diciamo alla tematica dell'immigrazione insomma c'è anche un'immigrazione diversamente che qui da noi molto più integrata ecco è cambiato un pochino l'approccio della popolazione Sì hanno già fatto delle leggi nuove più severe perché questa gente qui e questi atti non sono nuovi cioè la problematica è questa che c'è stata una legge nel 2006 già che impedisce alla polizia di dire la nazionalità di colui che ha compiuto il crimine per paura che la popolazione abbia diciamo dei risentimenti verso i clandestini verso gli immigranti e questo verrà cambiato adesso e un'altra cosa importante verrà anche coinvolta la comunità musulmana che c'è qui in Germania e in tutte le città che in generale sono di nazionalità turca ma ci sono anche altre nazionalità diciamo un pochino che tipo diciamo di proporzioni più o meno come provenienza ci sono allora hanno visto che a novembre c'erano circa 1500 tra marocchini e algerini e il mese di dicembre ne sono entrati 6000 clandestinamente e in questa nottata cioè il giorno dopo hanno fermato circa 30 di queste persone che attraverso i telecami sono state stabilite l'intedetta è stata stabilita hanno fermato 30 di queste persone e un buon terzo avevano un documento legale dato dallo Stato federale quando sono venuto in Germania ecco e quindi praticamente in conseguenza di una politica di accoglienza che è stata dalla cancelliera Merkel proprio in emergenza praticamente quando viveva tutta l'Europa in qualche modo viveva un'ondata di emergenza particolare soprattutto proveniente dalla Siria emergenza in migrazione ecco la Merkel un pochino alla cancelliera si è distinta un po' in Europa perché ha praticato una politica diciamo di grande apertura e questa cosa inequivocabilmente adesso non so se in modo più o meno fazioso è stata messa in relazione anche a questi fatti di colonia ecco io volevo chiederti è una cosa assolutamente fuori da diciamo dalla ragionevolezza mettere in collegamento questa cosa cioè praticamente fare sì che si influenzi e che quindi oggi si consideri la Merkel più debole come se questa cosa di colonia sia un po' la fosse anzi fosse la conferma di un fallimento di un errore della cancelliera Merkel nell'aver fatto entrare soprattutto i migranti siriani in parte sì però hanno stabilito che questi crimini la maggior parte non sono di gente siriana e irachena ma di gente dal Marocco e dell'Algeria che non hanno niente a che vedere con la guerra che si sono infiltrati diciamo in questa ondata non venendo più dalla parte della Spagna o dell'Italia vengono da quest'altra parte dei Balcani si sono infiltrati insieme a questa gente qui dell'Iraq e della Siria e sono venuti qui in Germania hanno visto che la politica era molto aperta e hanno approfittato di questo e poi questa azione che è successa a colonia non è stata una cosa organizzata non è stata una cosa spontanea spiegaci bene stanno indagando non c'è ancora la fonte di questa organizzazione se vogliamo dire ci sono riuniti gruppi in internet e hanno fatto questa cosa questo è importante che questa cosa improvvisamente tutti in un certo quando io ho letto la notizia mi ricordavo un pochino il film io sono un po' vecchio zombie di Romero in cui a un certo punto a una certa ora questi resuscitano e cominciano tutti quanti quindi non sono esattamente quelli che vengono dalla Siria e dall'Iraq mi sembrava insomma un po' strano che spontaneamente tutti quanti venisse fossero un raptus sessuale quindi ci sta un qualche idea o perlomeno delle indagini tese ad appurare perché insomma ci deve essere un sospetto che ci sia stata una sorta di regia tra virgolette insomma quindi una regia e quindi si potrebbe giustamente anche a questo punto ragionevolmente pensare che sia anche una regia politica sì ma nonostante ciò la Merkel aveva già dei problemi prima che succedesse questo questo ha incrementato il problema problemi di che tipo diciamo beh nel partito come dicevo prima ci sono 40 deputati che hanno già firmato una lettera aperta su 350 che sono diciamo secondo me secondo le statistiche circa la metà però qui in Germania i politici sono molto più liggi al capo del partito non fanno le cose diciamo a tradimento diciamo fanno le cose se sono attaccati al capo del partito lo fanno fino all'ultimo anche se la sua idea è sbagliata di critica che tipo di lettera aperta è cioè di chiudere le frontiere una lettera aperta per chiedere la chiusura delle frontiere mentre invece il capo della Baviera che è un partito a sé lui ha fatto proprio una proposta di 200.000 immigrati all'anno questo vuole il suo tetto e qui ne hanno presi già un milione e mezzo quell'altro anno un milione e mezzo in un anno e sì avrebbe un tetto di 200.000 all'anno in modo da integrarli meglio questo è il suo discorso ho capito e la cancelliera ha detto non possiamo fare un tetto noi prendiamo chi ha bisogno prendiamo però il cittadino medio dice non possiamo prendere tutto il mondo qui alla fine ci va male pure a noi infatti parliamo un po' che cittadino medio e politica c'è una certa distanza e ovviamente le opposizioni insomma diciamo quelle più critiche appunto a questa politica dell'apertura si saranno fatte forti o in questo periodo dopo questi fatti sì infatti hanno fatto subito dopo il giorno dopo che è successo questo a Colonia due giorni dopo c'è un partito di protesta che non vuole diciamo gli stranieri e che ha molti seguaci a Dresda nella Germania Est che ha fatto un comizio questo comizio è stato poi dopo vietato e sono stati mandati via con la polizia con idranti perché c'erano anche nazisti che si sono messi insieme a questa gente qui sì poi insomma diciamo che qualsiasi tipo di critica poi il timore è sempre che poi sfoci in questa in qualche modo ideologica storica possiamo dire che la Germania ha sempre timore di un ritorno infatti come ti dicevo dal 2006 c'è questa legge che impedisce alla polizia di dire subito chi è stato a fare il crimine questo è stato già da anni sono dieci anni adesso praticamente che non viene detto per non irritare la popolazione praticamente per evitare riduzioni ovviamente di tipo razzia sì anche quello che ci stanno lo stesso riduzioni ci stanno lo stesso quindi se lo facessero sarebbero più grandi secondo me non lo so io senti ma tu poi appunto peraltro lavori proprio in un aeroporto quindi hai anche un pochino un po' il polso della situazione con questo anni rivieni i viaggi e così via questa presenza vivendo appunto nel tessuto produttivo secondo te appunto queste entrate illimitate tra virgolette con sistema che potremmo dire sistema Merkel ecco è una cosa che la Germania effettivamente può metabolizzare nel suo sistema produttivo oppure avrebbe potuto in passato adesso un po' meno che idea hai? qualche centinaio di migliaio all'anno va bene ma a milioni è un po' troppo cioè il paese ce la fa ma per integrare meglio bisogna fare più lentamente diciamo per integrare non è il numero di per sé stesso è il numero in breve tempo scaglionati nell'anno ce la farebbe il paese ho capito ci sai dare qualche diciamo delucidazione ovviamente le condizioni che ci sono cioè le condizioni per restare per permanere questi immigrati che vengono soprattutto dalla Siria peraltro devono imparare della lingua quali sono le condizioni allora negli ultimi due o tre mesi hanno fatto come una specie di c'è un filtro già nei Balcani nella Macedonia dopo la Grecia c'è un filtro cioè fanno entrare praticamente siriani e iracheni e gli altri no c'è già un filtro già da due mesi diciamo e poi quello che si vuole è che imparano la lingua praticamente adesso ci sono stati tre sistemi come si dice per legalizzare questa gente tre diversi sistemi e hanno scoperto che alcuni di questa gente sono stati registrati due o tre volte e adesso stanno facendo un sistema solo cioè un documento che raccolta un sistema solo praticamente ho capito ho capito beh certo poi è difficile l'identificazione poi comprendere e in questo lascia passare c'è anche non c'è solo la nazionalità c'è anche l'impronta digitale quindi non si possono falsificare perché non so se hai sentito l'attentato che è stato dove stava a Parigi c'è stato un attentato che è andato in commissariato con un coltello questo qui stava qui in Germania come asilante e hanno scoperto che aveva diverse nazionalità si stava stava in un campo di 200 km da qua hanno scoperto che ha avuto 3-4 diverse nazionalità Algerino Tunisino Marocchino non si sapeva cioè fino ad oggi non sanno da dove viene questo che è morto praticamente certo ho capito beh sì è un problema che riguarda le identificazioni peraltro abbiamo anche l'Italia ha avuto diciamo una tirata d'orecchie da parte d'Europa su questo per vari motivi insomma è un problema notevole io penso che peraltro insomma non si possa immaginare una soluzione che non sia una soluzione di tipo europeo non di tipo nazionale sì ma i paesi dell'est non prendono nessuno però i soldi della comunità li prendono questo non è giusto infatti infatti bisognerebbe capire che se si sta tutti insieme si è tutti insieme anche nella tra virgolette gestione di problemi che provengono ai confini non è che le regioni cioè gli stati che stanno ai confini devono provvedere a difendere tra virgolette difendere perché poi bisogna anche capire se è una difesa o altro o comunque a gestire dei problemi ai confini per poi appunto non far arrivare questi problemi ad altri che si disinteressano dovrebbe essere tutti quanti coinvolti dovremmo essere in questo è un po' questo che si chiede a livello europeo però purtroppo questa Europa diventa sempre più una patria delle nazionali e non una patria europea e quindi è un po' è un po' dura insomma in questo senso non so se hai sentito oggi o ieri nella televisione hanno detto che nei Balcani hanno fermato cioè in Grecia hanno fermato dei siriani che volevano andare in Svezia e fino adesso passando per la Germania andavano per conto loro in Svezia li hanno fermati e viene fatto un centro lì e quando sarà il tempo li manderanno con l'aereo lì cioè vengono fermati in Grecia non li fanno passare adesso cioè lì nel paese di origine li lascia ho capito sì questi sono poi gli accordi anche di Dublino se non sbaglio che dovranno essere modificati per quanto riguarda la richiesta ci sono tutta una serie di accordi come anche Schengen insomma voglio dire che cominciano a essere non più dei punti fermi di questa Europa ma ad applicazione a macchia di pepardo c'è chi li applica chi li applica insomma così certo l'Europa non si fa comunque Emilio io ti ringrazio di questa di questa corrispondenza possiamo chiamare una corrispondenza dalla Germania in chiusura ti chiederai insomma tu come come stai in Germania se sei da tanto tempo hai lasciato l'Italia però ti tieni diciamo in collegamento informato sui fatti dell'Italia sì mi tengo informato però non ho al contrario di molti italiani in Germania non guardo la televisione italiana mi informo io personalmente in internet diciamo quindi ho la mente più filtrata non lo so più pulita forse non lo so sì vabbè no no sì oddio non è un valore assoluto però generalmente sì si dice così è un po' meno manipolata l'informazione su internet però insomma voglio dire sta diventando anche lì diventa un luogo comune perché insomma sicuramente anche qui c'è manipolazione ma non in misure come in altri paesi forse però insomma quello che ti voglio chiedere alla fine ti trovi bene sei soddisfatto di questa tua scelta sì perfetto va bene allora Emilio io ti ringrazio molto di questa corrispondenza se ci saranno evoluzioni io ti chiedo fin da adesso di di darci un po' un piacere regalarci un altro po' di tempo per fare un aggiornamento a questa corrispondenza dalla dalla Germania per il momento io ringrazio Emilio Albenici da da Colonia nei resti di Colonia ringrazio Donato Volpicella per la regia e vi do appuntamento sugli schemi di Libri di Fu a breve fra qualche ora questo video sarà disponibile grazie ancora e arrivederci arrivederci grazie a tutti